Amici di Cantiamo Napoli, Pino Giordano e il suo momento musicale. Ciao Pino, come va? Tutto bene? Stupino, li hai fatto proprio scuppiamo, è piacere, è carico, è tutto a posto, tu come stai? Tutto bene, al mio fianco c'è anche il tuo cugino, lo presentiamo al grande pubblico di Cantiamo Napoli. Mi segue dappertutto, Luigi, lui si chiama Luigi. Luigi, ciao, buonasera. Buonasera. Come va? Tutto a posto a te? Un bacio per i tuoi fan, lo vuoi mandare? Ecco qua, perché lui è pieno di fan come il cugino. Certo, ovviamente. Buon sangue non mente. Non mente mai. Allora, buonasera pure a Claudio, hai visto com'è bello con il Papillon, con tutti i bacetti sulla... Ma la prossima si mette un frac, me l'ha promesso. Ah, sì, devi venire con il frac, insomma. Allora, Pino, come ti sta andando? Tutto bene, tutto bene, grazie. Tra poco usciranno qualche brano nuovo, che poi teniamo riservato, perché stavolta voglio dire le cose riservate questa volta, perché sono bellissime novità. Tra l'altro qualche brano scritto da Alessio, che ti manda un bacio. Che bello. Le stasi apre, sentiamo proprio un brano scritto da lui. Oh, e il titolo? Strappa le sue foto, stracciate il fotografo, tutte cose. Strappate le foto, perché poi le foto magari sono pericolose nelle in giro, roba di fatture, si fanno... No, non ne manco di fatture, è un fatto che... brutti ricordi, capi? Quindi, guardi, ricorda mezzo malamento, mettete positiva. Rimuovete i vostri, insomma, la vostra vita passata, la parte negativa. Solo la positiva, solo la positiva. Dovete essere positivi, dovete vivere la vita e amare la vita che vivete. Allora, Pino, noi abbiamo annunciato la canzone di quest'oggi, quindi ti auguriamo una buona permanenza con noi, una buona visione al nostro pubblico da casa. Un buon ascolto per tutte le persone che ci stanno ascoltando per radio. Esatto. E insieme a Pino Giordano, a suo cugino Luigi, a Claudio e a Lello Fiaretti vi diciamo... Cantiamo Napoli! Grazie. 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 Grazie.